salve a tutti e benvenuti da ottica gm oggi vi parlerò di questo strumento sterilizzatore per occhiali a raggi ultravioletti eccolo qua finalmente è arrivato ma vediamo come funziona sterilizzatore germicida che fa parte della categoria uvc quindi quelli che vanno da 200 a 280 nanometri ma cosa fanno nel particolare queste tipologie di sterilizzatori questo in particolare emette 253,7 nanometri praticamente è l'intensità giusta per togliere tutti i tipi di germi e batteri e soprattutto per inattivare i virus infatti con esposizione di circa un minuto riesce a sterilizzare perfettamente sia gli occhiali che mascherine o altro funzionamento è semplicissimo start decidiamo quanto tenerlo io scelgo sempre 60 minuti praticamente apriamo e mettiamo un po di occhiali chiude eccoci va partirà la luce pulsata che praticamente andrà a disinfettare tutta la superficie degli oggetti stessi cosa importante per non danneggiarsi gli occhi quando apriamo lei si spinge in automatico e via con lo schermo protettivo seduta finita i nostri occhiali sono pronti per essere riposti come avete visto noi ancora non abbassiamo la guardia finché ci sarà l'avvisaglio di questo problema noi continuiamo così così che il cliente si può provare gli occhiali in tutta sicurezza perché ogni volta che vengono provate vanno qua dentro e vengono sterilizzati completamente bene spero di esservi stato utile per qualsiasi cosa scrivete nei commenti e grazie avermi seguito ciao